Ciao ragazzi, vi faccio vedere come condividere il video che avete fatto su Classroom oppure un sistema alternativo se non riuscite a condividerlo su Classroom. Allora, voi fate tranquillamente il vostro video anche con il telefono, dopodiché selezionate il video, lo condividete, direttamente dal telefono potete selezionare di condividerlo con Classroom. Ora vedrete che la visualizzazione che ho io è un po' diversa perché io ho tutte le classi d'inglese ovviamente, selezionate la classe con cui la classe d'inglese per voi e iniziate il caricamento. Questa operazione può richiedere molti minuti, difatti anch'io non sono riuscita a condividerlo. Quindi adesso vi farò vedere un sistema alternativo per condividere questo video. Allora, selezionate nuovamente il video che vi interessa condividere. Questa volta andate a salvare il video come file in Drive. Quando entrate, quando dovete salvarlo sul Drive, selezionate come utente il vostro account della scuola. Anche qui il caricamento può richiedere qualche minuto, ma è sicuramente più veloce. Una volta che avete salvato il video sul Drive, entrate nel Drive e clicca entrate con l'account ovviamente della scuola e trovate il file e copiate il link e mi incollate il link in Classroom nei commenti privati del compito che io vi ho assegnato. Quindi adesso prendo come esempio la classe terza C, seleziono il compito che richiedeva di allegare il video e adesso qua tra i vari alunni ne scelgo uno a caso, il primo che non ha ancora consegnato il compito e vedete qui nei commenti privati faccio incolla e incollo il link. Dopodiché ricordatevi ovviamente di cliccare sull'invio.